Stretta di YouTube sul terrorismo. ANSA, Roma. 13 novembre dopo la stretta alla propaganda online del terrorismo. YouTube intraprende misure radicali. La piattaforma che fa capo a Google ha rimosso e bloccato i video di Anwar Alolaki. L'imam radicale americano-iemenita ed ex-leader kaedista ucciso da un drone USA nel 2011 in Yemen. La mossa è stata confermata dalla compagnia New York Times. Utilizzando la tecnologia che riconosce l'impronta digitale delle immagini. YouTube riuscita a ridurre in modo significativo l'archivio di contenuti estremisti di Alolaki. Il sistema è in grado di segnalare automaticamente i video dell'imam al team di revisori. Questi, persone in carne e ossa. Riescono a bloccare la maggior parte dei filmati prima che qualcuno li veda. In autunno, scrive il NIT, una ricerca su Anwar Alolaki su YouTube dava circa 70.000 risultati. Effettuata oggi, invece, ne restituisce 18, 600, di questi video la maggior parte costituita da servizi e news sul conto dell'imam. Altro su MSN. Facebook e YouTube insieme contro il terrorismo. ANSA. Riproduci nuovamente video. Mugabe. Confinato a casa ammasto bene. Presidenza Sudafrica riferisce di telefonata tra i due leader ANSA. LND-39. UE in calza LND-39. Italia sul debito Padoan. Presto andrà END-39. Giu END-39. Gentiloni. Non siamo fanalino di coda ANSA. Il Papa apre sul fine vita END-QOT. Lecito. Talvolta. Sospendere cure se non proporzionali END-QOT. ANSA. I M P O S T A Z I O N E N O N Attivo H D H Q S D L O. UNI N H T A N T U R E N T A T L U E D H Q S D T A T W E N E D H K D E N T Ho. UNI N T A T L U E A N D O N T A T I N D T A T H Q S D A T U E N T U E N T H Q S D A N T T W E N E N T H Q S D A T I T H.